Oggi andremo a vedere il cacciatore periniere di livello 8 premium americano KID Nave che mi è stata gentilmente donata un po' di giorni fa, quindi subito gameplay Andiamo a vedere le sue caratteristiche Abbiamo 19.500 punti tramite la skill del comandante che ne aumenta per l'appunto l'integrità Cannoni da 127, tempo di ricarica 3.3 Danno massimo con le AP 2100 Danno a Kay 1800, probabilità 6% Gittata 14.7 Abbiamo siluri, una torretta con 5 tubi, 122 il tempo di ricarica Abbiamo danno 16.633, portata 9.2, raggio di rilevabilità 1.1 Abbastanza standard sia per quanto riguarda i cannoni che per quanto riguarda i siluri Difesa contraria davvero molto solida Aprirei anche una parentesi doverosa Possiamo portare al posto della sovralimentazione lo sbarramento contro aereo Io nella partita che state per vedere porterò la sovralimentazione Possiamo recuperare vita? Un consumabile del tutto insolito su un caccio torpediniere E ancora di più per quanto riguarda un caccio torpediniere americano Perché mi sono state... Ah ok, bene, vabbè, dopo controllo Manovrabilità Abbiamo 39.9 con la bandiera serramike Quindi una nave molto veloce che con la sovralimentazione mantiene, ripeto ancora una volta, una velocità da non sottovalutare Verremo spottati a 5.8 da qualsiasi nave nemica e da 2.7 da qualsiasi aereo nemico Ragazzi, questo è il Kid, questi sono i potenziamenti, questi sono i consumabili Andiamo in partita E allora, andiamo a vedere una partita con il caccio torpediniere Kid Siamo in un matchmaking con navi solo di livello 8 Siamo accompagnati dal nostro compagno di clan Joy Un solo caccio torpediniere, una portaerei che si trova in partita Quindi, la sovralimentazione purtroppo a questo giro non sarà utile, diciamo Avrei preferito sicuramente avere lo sbarramento La cosa bella è che prima di iniziare la partita ho pensato Adesso uscirà sicuramente la portaerei Però ho lasciato la sovralimentazione Il lag che state vedendo iniziale ovviamente non è un mio problema Bensì è un problema del replay Cose dette e ridette più volte Però per il solito motivo che non tutti guardano quel video Allora magari rispondono a domande in un video e in un altro Insomma, ripetiamo sempre le solite cose E qui sinceramente il fatto che lui stia mandando gli assaltatori Era una cosa abbastanza scontata Il fatto che li stia mandando sul settore di Bravo è altrettanto scontata Come è scontato anche il drop dei fighter Per l'appunto nel settore centrale Qui ovviamente noi cerchiamo di gestire Quella che è la minaccia da parte della portaerei giapponese Non ci tiriamo indietro nel utilizzare la nostra antiaerea Eventualmente possiamo recuperare la vita Abbiamo 20.000 punti Quindi perché no Continuiamo a sparare Quindi non si spegne e non si arretra di un solo millimetro Lui va a fare un 2.178 Che alla fin fine possiamo gestire senza problemi Però ci stiamo portando a casa già ai primi punti della partita Abbiamo messo un fumo perché l'idea era di entrare nel cap E di fermarmi al suo interno Però diciamo che non ho fatto i conti Che avevo sei navi che mi stavano puntando Della serie Metà squadra nemica Era già su di me Avrei potuto evitare Cioè avrei potuto mettere dopo il fumo E poi entrare Però è anche vero che loro mi sanno un radar Sì Quindi potrebbero Due radar potrebbero fare un gioco speculare Lui insiste con gli assaltatori E qui sinceramente va a rovinare i miei piani di cap Non pensavo che avrebbe mandato subito di nuovo gli assaltatori Pensavo più a un attacco con bombardieri oppure aerosiluranti Invece non è così Mi va Prova più che altro ad attaccare Però ancora una volta Il danno che mi va a fare 1100 Noi recuperiamo vita Quindi è come se in questo Primo minuto Due minuti di partita Non sia successo praticamente nulla Anzi Noi di contro abbiamo fatto ben Abbiamo distrutto ben 13 aerei Che non sono pochi Nei primi due minuti di partita Nel frattempo proviamo un lancio preventivo All'interno del fumo potrebbe esserci qualcosa Dobbiamo mantenere la calma Perché secondo me Con un solo cacciatore periniere I cap diventano fondamentali Quindi la partita non deve essere tanto abbassata Sui danni o sulle navi affondate Cioè nel senso se arrivano Tanto di guadagnato Però cerchiamo di non perdere la bussola E di conquistare i punti di cap Io infatti non mi allontano più di tanto E rientro appena possibile Dentro il settore di Bravo Un terzo attacco della portaerei Sarebbe alquanto irrealistico Infatti lui va con l'aereo Siluranti Decide di cambiare il bersaglio Era anche ora E va sul settore di Charlie No ho parlato troppo presto Sta venendo da me Non ci voglio credere Sta provando un attacco Non sto ben capendo Quello che sta facendo la portaerei Ha provato sull'incrociatore Inglese Però noi ce ne freghiamo altamente E continuiamo a cappare Nel frattempo Se possibile Pensiamo a quella Che sarà La nostra nave Da attaccare In un primo momento Qui Ecco Adesso mi sono ricordato Volevo prendere Il settore di Bravo E poi andare Automaticamente Sul settore di Alpha Cosa fa la portaerei? Perché non avevo visto più L'aereo Siluranti? Perché le avevo fatte rientrare Probabilmente aveva capito Che ce ne stavano tanti E torna Per la terza volta In tre minuti di partita Con gli assaltatori Nel mio cap Nel mio settore Rendendo ovviamente La cattura Molto più difficoltosa Di quanto in realtà Dovrebbe essere Una scelta Che sinceramente Io Non avrei fatto Perché contro un kid Mandare tutti questi aerei Non so quanto Possa avere Effetto positivo La sua giocata Fatto sta Che noi andiamo A cappare Il settore di Bravo Quello che volevamo Ci allontaniamo Il più Rapidamente Possibile Anche perché Sul settore di Alpha Quanto vedo C'è un incrociatore Che è appena spuntato E guarda caso Tra tante navi Chi poteva essere Ovviamente Il Cleveland Io qui ragazzi Non ci volevo credere Ma La porta aerei Sta venendo Ancora una volta Contro il mio Cacciatore di Nere Con i bombardieri AP Quindi io Sono stato In tutti questi Minuti Così costantemente Preso di mira Dalla porta aerei Nemica Che ripeto Ancora una volta Dall'inizio Della partita Ha fatto Sienno 2000 danni 2100 danni Che sono pochi In confronto Alle perdite Che sta Ricevendo Perché non solo io Sto sparando Con l'antiera Bensì anche I miei Alleati Qui ovviamente Quando vedo il Cleveland Possiamo fare Semplicemente una cosa Ovvero cambiare Lato della mappa E cercare di andare A cappare Il settore di Charlie Il settore di Charlie Che come potete ben vedere È ben Popolato Il settore di Alpha Non lo possiamo più conquistare Perché abbiamo il Cleveland Che rompe le scatole Quindi noi siamo un po' Costretti ad andare Sul settore di Charlie Di per sé La nave Anche se l'ho giocata In poche partite Mi piace Mi piace Mi diverte L'antiera dice la sua Il caricamento Dei cannoni È un po' più elevato Rispetto a quello Del gearing Però È anche giusto Che sia così Altrimenti sarebbe una nave Davvero troppo potente Recuperiamo la vita Abbiamo un fumo efficace Abbiamo anche Ripeto La sovralimentazione Che può farci cambiare lato Abbiamo diverse cose Da poterci Permettere di fare Durante lo scontro I danni I danni al momento Non sono ancora arrivati Perché siamo fermi A 1188 Però grazie a noi La squadra Ha fatto Al momento 75 punti E ciò nonostante Nessuna Ecco Arriva il primo sangue Di Gioi Stavo per dire Nessuna nave Ha fatto la prima kill È arrivata in questo momento Ancora una volta Diamo una mano Con l'antiaerea Per me va bene Io posso anche fare Zero danni In questa partita Non è importante L'importante È distruggere Gli aerei Per mettere Fuori gioco La porta aerei Giapponese Tra l'altro Molto pericolosa Ancora una volta L'antiaerea spara Abbiamo fatto 30.000 danni Sulle squadriglie nemiche Andiamo Dentro Il settore Di Charlie Abbiamo provato Timidamente A sparare Un paio di colpi Anche perché Ragazzi Fondamentalmente Il cacciatore Per di nere Da affrontare Solo uno Ed è anche Lontano Quindi Oggettivamente Parlando Fare danni In questi minuti Sarebbe stato Alquanto complicato Perché Spariamo Contro un Cleveland Rimaniamo Contro un incrociatore Sul settore Bravo Oppure andiamo A prendere i cap Ovviamente Andiamo a prendere i cap E lui Ancora una volta Non ci voglio credere L'ho detto tre volte Torna con gli assaltatori Io veramente Non so Quel giocatore Cosa Sta pensando Di fare Contro il mio Cacciatore per di nere E ben Strutturato Qui Dovrei mettere Il fumo Se non ricordo male Eccolo lì Il fumo Adesso andiamo a fare Un gioco Molto semplice Nel senso Rimaniamo All'interno Del cap Capiamo Parola magica Prendiamo il cap E iniziamo Finalmente Si spera Dopo 8 minuti A fare un po' Di danni Dopo che abbiamo Avuto Qualche problema Aereo Sul settore Di bravo Più che altro Perché ci tiene spottati Se siamo spottati Possiamo fare pochi movimenti E siccome l'atteggiamento Della porta di nemica È molto aggressivo Nei miei confronti È vero che noi Distruggiamo gli aerei Siamo a 22 Però Quando sono spottato Non posso Torpare Non posso fare La giocata Che vorrei Tra l'altro Un'altra cosa I siluri Sono 5 Sono 5 Hanno una gittata Di 9.2 Abbastanza standard Per una nave Classe Benson Quindi cerchiamo Di aumentare Il nostro punteggio Tramite i cannoni I cannoni Che come vedete Hanno una parabola Abbastanza Proprio stile americano Arrivano dei siluri Aiuto Chi sono? Questi sono quelli Della Kizuki Sicuramente Che li ha lanciati E ha provato Però Noi qui siamo stati Abbastanza graziati Una volta che metto il fumo E posso stare all'interno Ricevo anche i siluri Mi sembra una cosa giusta E E doverosa 423 Abbiamo perso due navi Però la cosa importante È che abbiamo tutti i punti di K Abbiamo preso Bravo E abbiamo preso Charlie Quindi due K su tre Sono stati presi Per nostra mano E nel frattempo Noi continuiamo a martellare Un incrociatore Che spero Vada giù Perché sta bruciando E lo stiamo colpendo No L'incendio l'ha spento Veramente A quanto è rimasto? A 100 punti è rimasto Secondo me Andiamo contro la Bismarck Il fatto di avere un fumo Così elevato Ci dà la possibilità Uno Di sparare a noi E due Cosa ancora più Interessante E saggia Potremmo coprire Un nostro alleato Con una nave Che allo stesso tempo Spari in maniera continua I nemici Andiamo a perdere Un'altra corazzata Della serie Com'è possibile Che stiamo perdendo navi Se loro sono tutti Su Charlie C'è qualcosa Che non quadra Su Alpha No Su Alpha abbiamo delle navi Allora dove fanno le kill? Non l'ho ben capito 45.000 46.000 danni Come vedete In pochi minuti Abbiamo raggiunto Circa 50.000 danni Quindi Il tempo che abbiamo Tra virgolette Eh Perso All'inizio Lo abbiamo totalmente Recuperato In questa fase di gioco Un altro aereo abbattuto Siamo a 24 Io penso che Se avessi avuto Lo sbarramento Contra aereo Avrei già fatto Esperto della contraerea Perché contro i bombardieri O contro l'aeroseluranti Ma anche contro gli assaltatori Ancora di più Facciamo un male Incredibile Nel frattempo ragazzi Che la partita va avanti Come sempre Vi ricordo Che mi trovate live Ogni giorno Sul canale Mixer Sito È un canale streaming Link in descrizione A partire dalle 14.30 Nello specifico Trovate World of Warships La domenica Quindi Non vi costa niente Se mi volete seguire Se volete provare il gioco Completamente gratuito Link in descrizione Link che vi dà accesso Alle due famose Navi premium L'incrociatore Diana Di livello 2 sovietico La corazzata Warspite Inglese Di livello 6 Più una serie di vantaggi Giorni premium Crediti E quant'altro Basterà semplicemente Giocare Link In descrizione Tra l'altro Vi ringrazio perché siete A centinaia Che utilizzate il link Nel frattempo Andiamo a fare una kill Su un incrociatore Qui potrebbe arrivare Addirittura il doppio colpo Doppio colpo Che ovviamente Non arriva Perché altrimenti Sarebbe stata una cosa Troppo troppo bella Quella famosa Hyper di prima L'abbiamo lasciata A 2764 punti Vediamo se in qualche modo Riusciamo a portare a casa La kill Che sarebbe anche meritata Se devo essere sincero Andiamo a mettere un fumo Che Volevo Non metterlo Questo fumo Perché Vediamo 536 Non vuole Non vuole morire Non vuole E ovviamente La kill ci viene Soffiata Da sotto Il naso Andiamo sulla Ciappa Iev 2000 2104 Lo abbiamo colpito Rimane a 1800 Diciamo che qui Nel giro di pochi minuti Potevamo fare Molte più kill Rispetto a quelle Che segna Il tabellone Però purtroppo Non è questo il caso E qui decido Di fare una cosa Abbastanza Forse scontata Nel senso che Io sono già Psicologicamente pronto A Lanciare i miei siluri Nel lato Nei confronti Di quella corazzata Il che farebbe Aumentare il mio punteggio Di 60.000 punti Nel giro Di pochi secondi Sono ben disposto A Diciamo Sacrificarmi Per prendere Tanti punti Danno La sovralimentazione Purtroppo è terminata Usciamo per dare un'occhiata Giusto un pochino Arrivano ancora Aereo siluranti Cioè La porteri Cos'è che sta facendo Per l'ennesima volta Provo un lancio Senza vedermi Ci può stare Tranquillamente Con le aereo siluranti Dentro il fumo Non sto dicendo il contrario Però Forse sarà la quinta volta La sesta volta Che viene contro noi Se si fosse concentrato Su altre navi Sicuramente Avrebbe fatto Molto di più punti Quindi secondo me La porteri Ha completamente Sbagliato Il suo Bersaglio Qui ancora una volta Continuiamo Con i nostri cannoni Veniamo spottati a 270 Quando utilizziamo i cannoni Ragazzi Io non lo so Ancora bombardieri Veramente Non lo so Veramente non lo so Stiamo avanzando Vogliamo prenderci la kill Sul vanguard Siamo a 102.000 danni Vediamo se riusciamo Ad ampliare il nostro Punteggio Che al momento Dovrebbe essere Già abbastanza elevato Visto che abbiamo Catturato due basi Concentrazione massima Per un drop Molto molto Semplice Però insomma È il caso di non Mancare la kill L'appuntamento alla kill Non ci va a dare Il colpo devastante Per nostra sfortuna Veniamo spottati Siamo spottati Dall'incrociatore Ma anche volendo Abbiamo praticamente La portaerei Che è Ancora una volta È sopra La nostra testa Siamo a 137.000 danni La partita Sta per terminare Non prima Di essere distrutti Dalle armi secondarie Della Richelieu Risultati posto scontro La nave è stata persa Però abbiamo ottenuto Ben 2500 base Ragazzi Video terminato Io come sempre Vi ringrazio per i like I commenti E le visualizzazioni Ci vediamo alla prossima Con un nuovo gameplay Ciao Ciao